Appena le ho indossate, si sono rotte. Comunque qua è pieno di patata, dobbiamo venirci. Ma è possibile che pensi solo a quello Cristo Santo? Scusa, fra c'era Noemi che mi guardava il telefono. Grande quando ci andiamo? Domani sera? Grande, ci sono. Ottimo. Perché i cetrioli hanno la schiuma? Io non capisco. Fatti i cazzo tuoi. Ok, martedì sono venuti i ragazzi. E io ho bevuto un po'. Mi piaceva.